VENGO! VENGO! Ingegner Giorgio Manfredi? Non c'è. Dov'è? Non sappiamo. Non viene sempre a dormire a casa. E dove va? Non lo so. Sta come un giovanotto scapolo. Già. Qual è la sua camera? Da quella parte. Viene molta gente a trovarlo. Una volta sì, ma da un pezzo non viene più nessuno. Già, naturalmente. Quanti altri pensionanti avete? Due. Dov'è il telefono? In fondo al corridoio. Ferma, rispondo io. Allo? Pronto? C'è Giorgio? Ma sì, l'ingegnere Manfredi. Ma con chi parlo? Sono un amico dell'ingegnere. Che amico? Con chi parlo? Era una donna. Chi è? Che ne so io, mica l'ho vista. Etwas gefunden? Nix, niemand. Quella porta? La terrazza. Ah, la terrazza. Calma, mi raccomando. C'è l'ambasciata di Spagna. C'è l'ambasciata di Spagna.